Struttura sportiva di primo piano per il comprensorio e la comunità, che da tempo meritava nuova vita. A Fossa Cesia sono cominciati lavori di ammodernamento e riqualificazione del campo sportivo comunale Vincenzo Granata, in Viale San Giovanni in Venere, ormai cadente vetusto e che sarà oggetto di manutenzione straordinaria. Entro breve avrà nuovo look con un manto in erba sintetica conforme alle vigenti normative di sicurezza. I lavori però saranno completi e riguarderanno anche l'impianto di illuminazione, le modalità di accesso e deflusso del pubblico, vie di fuga ed altri accorgimenti di legge. Poco meno mezzo milione di euro l'investimento con l'amministrazione comunale che ha potuto beneficiare del credito sportivo del CONI. Si procederà nei primi giorni di lavoro a rimuovere tutte le attrezzature esistenti, come i pali di illuminazione, le panchine, porte, materiale presente, oltre che a ripulire tutta l'area che, dopo un anno di inutilizzo, è in stato di degrado. La seconda fase vedrà la posa dell'erba sintetica che completerà il passaggio ad un nuovo ed efficiente impianto sportivo. L'assessore allo sport, Maura Sgrignoli. Una fase di ammodernamento, riqualificazione, al passo coi tempi, tanto attesa dalle società di calcio e dai cittadini, per cui siamo molto soddisfatti del risultato. Il finanziamento è comunque arrivato, per cui possiamo procedere proprio alla fase operativa e quindi di realizzazione in concreto dei lavori. L'impresa affidataria ci ha promesso che lavorerà duramente nel corso dell'estate e quindi rispetterà anche la consegna dei lavori.